andiamo sul treno questo è il treno vero aspetta, 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 no no, qua è chiuso il buco qua, stai, qui qua, qua si può andare oh, è chiuso, chiuso anche qua è chiuso aspetta, aspetta, chiuso eh ok, aspetta, stai lì ah, è chiuso, chiuso chiuda guarda qua, adesso ti faccio vedere si